In Asia il mercato azionario sale per la terza sessione consecutiva e aumentano i prezzi delle materie prime, in seguito al livello più alto, dal gennaio 2008, della fiducia dei consumatori americani. Lo Yen si indebolisce nel rapporto con le maggiori valute dopo i segnali di miglioramento della ripresa economica globale. In collegamento internet da Tokyo, Alessandro Libri. Ciao Alessandro. Grazie Luciano, buon pomeriggio. Le prospettive di una tenuta dei consumi negli Stati Uniti spingono a rialzo i prezzi delle materie prime e con il miglioramento delle aspettative di crescita dell'economia globale ritraccia, come dicevi, la valuta nipponica nei confronti di dollaro e della moneta unica. A Tokyo il settore dell'export e dell'industria è trenare il Nikkei, bene la tecnologia al pari di quanto avviene a Taiwan. Se l'economia americana conferma la tendenza attuale, sostengono gli analisti, non ci sarà ragione di dubitare sulla tenuta degli utili trimestrali delle aziende. Le ultime rilevazioni del governo giapponese inoltre indicano una ripresa delle spese in conto capitale rispetto al mese scorso quando si prevedeva una contrazione. Chiuse per vacanza quest'oggi le borse di Shanghai, dove si celebra il festival del Dragon Vot, festività che dureranno fino a mercoledì, e le vacanze anche in Australia, paese del Commonwealth che festeggia il complano della regina in Inghilterra. Si mette in evidenza l'apprezzamento del buon coreano invece a Seoul perché le autorità monetarie del paese hanno allentato le precedenti imposizioni alle banche che erano state introdotte per limitare la volatilità della valuta. La notizia che ha fatto segnare il maggior rialzo è la rivista coreana in una settimana al cambio con il dollaro. Perde invece l'appeal di valuta rifugio, lo yen giapponese, perché si attenua l'avversione a rischio sui mercati, siamo a quota 112 sull'euro e vicino 92 sul dollaro. In attesa di cattive notizie, secondo gli analisti, il recupero della moneta unica potrebbe proseguire, ma si esclude un ritorno a livelli di un anno fa, quando l'euro quotava a quota 132 sullo yen giapponese. Nel frattempo dunque sembra che vada verso una soluzione la vicenda degli scioperi allo stabilimento della Honda in Cina, ma pare anche che si possano aprire nuove incognite. Sì, secondo quanto confermato dal portavoce della seconda casa auto giapponese, gran parte dei dipendenti è tornato a lavoro dopo i tre giorni di proteste legate alle richieste di aumenti salariali. Una vicenda che ha seguito l'evoluzione della Foxconn, l'azienda che produce accessori per la Apple, dove si sono verificati 10 suicidi tra i dipendenti. Anche in questo caso il motivo delle proteste sono le richieste di stipendi più alti, fino al 70% in base a quanto rivelato dalle organizzazioni dei lavoratori la scorsa settimana. Il leader dei sindacati e la stampa locale hanno riferito di concessioni da parte della Honda in una misura tra il 10 e il 25%, ma il vero dilemma per le aziende multinazionali che producono nelle province del Guangdong, a sud-est del paese, è che questi nuovi sviluppi possono portare ad un fenomeno di massa. La realizzazione da parte dei dipendenti delle fabbriche in Cina di poter ottenere un simile trattamento avanzando simili richieste, con le dovute ripercussioni sulle prospettive dell'inflazione nel paese e i margini delle aziende che vanno via via restringendosi. Una vicenda che ha trovato spazio nella stampa locale in Cina, ma che sembra riguardare per il momento prevalentemente le multinazionali estere. Alessandro Libri da Tokyo, grazie Alessandro, buona serata. Grazie a tutti.